Pronto? Buongiorno, parlo con il signor Rodolfo. Molto bene, la chiamo da Biodry, ci è arrivata una sua richiesta per un problema di umidità. Come posso aiutarla? Posso farle qualche domanda? Un professionista Biodry, dopo aver ricevuto la richiesta della risoluzione del problema, effettua un sopralluogo gratuito presso l'immobile da risanare. Lo scopo è quello di assicurarsi che si tratti di umidità di risalita e garantire l'effettivo prosciugamento del muro. Effettua infatti le prime misurazioni di umidità per poter successivamente fornire un preventivo. Dopo la firma del contratto è il momento dei nostri tecnici esperti. Tramite l'igrometro misurano il livello di umidità presente nell'intonaco e ne misurano l'altezza. Inoltre verificano il potenziale elettrico nel muro. Secondo la normativa UNI 11085 eseguono le misurazioni ponderali tramite i prelievi di un campione di muro, utilizzando una bilancia ad alta precisione con camera di essiccazione, che permette di quantificare esattamente l'umidità presente all'interno del muro, espressa in percentuale. Tutte le misure vengono registrate e i fori sigillati. Ecco che a seguito di altre misurazioni specifiche come le diagnosi chimiche, l'analisi tramite reagenti chimici dei sali e il controllo dei disturbi elettrici, il tecnico stabilisce dove installare il dispositivo. Ogni sei mesi, a seguito dell'installazione, vengono effettuate nuovamente le misurazioni per assicurarsi che il presciugamento stia avvenendo nei tempi previsti. Il cliente viene seguito fino a completa soddisfazione ed effettiva risoluzione del problema di un'unità di risalita capillare.